Il farmi anche notare, anzi ve lo faccio una bella, le acconciature, guardate i dettagli di questi pettinature. Glory sta lavorando dalle 6. Esatto, tra l'altro ha preso in altissime modelle, quindi lavoro molto veloce, nonostante quello sono tutte molto precise e molto elaborate. E questo mi deve far pensare che per tutte le vostre esigenze, per i vostri temi lavorativi, per le vostre serate, Glory vi aspetta qui per le vostre acconciature. E cara che detta qui si è mandata però un po' sicuramente, un applauso fantastico, questa è classica. Sì, esatto, mi ha vestito molto bello per la sera, è sempre attuale, ci vuole dare poi le mie occasioni. I complimenti vanno anche allo Stato di Ava Sabinamento che ha selezionato i suoi migliori capi da far sfilare qui alla Notte Bianche di Presenso. So che li ha tenuti proprio per far vedere questi capi, voi li potrete trovare. Grazie a tutti.